Buongiorno dal progetto Aurora, la scuola di calcio di Santa Croce, Gavassi e San Prospero Strinati. Quest'anno non possiamo fare gli auguri tradizionali come tutti gli scorsi anni con una festa in presenza dei nostri ragazzi e dei loro genitori e familiari. Siamo costretti purtroppo a farlo in questo modo. L'anno che sta per finire è stato un anno molto tribolato per tutti. Noi della scuola calcio abbiamo fatto pressoché sempre allenamento, rispettando tutte le normative, mantenendo le distanze, sanificando le attrezzature e gli ambienti, ma non si sono potuto fare le partite e svolgere i campionati. I campionati della primavera non sono finiti e quelli autunnali non sono nemmeno cominciati. Pur con tutte queste difficoltà, tanti i nostri ragazzi comunque hanno fatto allenamento sui nostri campi. Siamo convinti che lo sport sia necessario per la salute dei nostri bambini e siamo pure convinti che lo sport e il calcio in particolare, perché svolto all'aperto in ampi spazi, non è un veicolo di trasmissione del virus se svolto nel rispetto di tutte le norme. Ringraziamo quindi tutti i nostri ragazzi, tutti i loro genitori per la loro presenza. Un ringraziamento particolare e particolarmente sentito a tutti i nostri allenatori e dirigenti che hanno sempre dato la loro disponibilità per far sì che l'attività potesse svolgersi normalmente superando ogni difficoltà. Auguri di buon Natale e di buon anno e di trascorrere serenamente in famiglia tutte le festività. Ci ritroveremo tutti dopo la Befana per la ripresa augurandoci che il 2021 sia l'anno della ripresa completa e della sconfitta della pandemia per poter disputare finalmente tutti i nostri campionati. Dopo la notte arriva sempre l'aurora. Auguri a tutti! Vi volgo quest'occasione per fare gli auguri di un sereno Natale a tutti i bambini e a tutte le famiglie del progetto Aurora. Speriamo che il 2021 sia un anno molto più libero e felice che il 2021 sia un anno molto più libero e felice. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!